Buongiorno, in vista dell'evento di venerdì 18, oggi voglio presentarti un pezzo di storia. Volevo farti vedere questo che è il frutturatore in immersione di Bamix che è degli anni 70, questo praticamente ha la mia età, quindi ora ti svelo anche più o meno quanti anni ho, ha circa 40 anni e quindi, come dire, per un normale elettrodomestico sarebbe quasi da dire obsoleto, superato. In realtà fa ancora egregiamente tutto quello che faceva 40 anni fa. Intanto lo accendiamo e vediamo che è ancora perfettamente funzionante. Apparteneva alla mia famiglia e continua come vedi ad appartenere. Da venerdì naturalmente noi utilizzeremo questo che è il figlio di questo frullatore sempre prodotto e realizzato interamente in Svizzera. Oggi voglio farti vedere come funziona in questo caso facendo una purea con mela e mandarino. Vediamo quello che accade. Grazie. 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 è acceso, perché altrimenti potrei sdizzarmi. Ed ecco qui, perfetto, omogenizzato. Buon appena. Allora, venerdì vedremo in funzione il BAMIX anche con il suo accessorio che è il processor. Ora, come allora, è dotato il nostro BAMIX di questo accessorio. Ovviamente, come vedete, hanno caratteristiche diverse. In questo caso lo utilizzeremo con della frutta secca. Ci sono nocciole, arachidi e lo metteremo all'interno. Il processor va semplicemente riempito con questa frutta. Posizionando il BAMIX nelle apposite fessure, praticamente sopra, in questo modo, vedete che è perfettamente stabile e va semplicemente, da questo momento in poi, azionando. Come vedete, già sta producendo la granella. Poi, a seconda dell'esigenza, ecco, diamo un'occhiata, vediamo il risultato. Mi sembra quasi perfetto. Continuiamo un altro pochino. Un altro po'. Ecco qui, perfettamente. Poi, magari, la granella potremmo farla anche meno intensa, però, come vedete, è veramente perfetta. E questo con uno strumento che ha una potenza minore e, soprattutto, 40 anni addosso ed è ancora in funzione. Perché questo, il BAMIX ha una delle caratteristiche più importanti che è il motore, che è garantito 25 anni, ma è, soprattutto, efficace perché trasmette il moto dalla parte superiore a quella inferiore senza interruzioni. Io vi aspetto venerdì 18 per farvelo vedere in funzione concretamente con tante sorprendenti ricette anche del nostro amico Dottor C. Ciao, ci vediamo il 18.